Ciao e bentornati, io sono Valerio Novara di Ciak e Azione e oggi vi parlo di Nightmare Alley, la fiera delle illusioni, l'ultimo film di Guillermo del Toro con protagonista Bradley Cooper. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube di Ciak e Azione per non perdervi tutte le recensioni e le news che riguardano il mondo del cinema e delle serie tv. Vi consiglio di seguirci anche su Facebook e su Instagram sulla pagina di Ciak e Azione. Nightmare Alley, un film che ho visto al cinema e che mi è piaciuto tantissimo anche perché Bradley Cooper ormai si sta sempre di più imponendo nel panorama dei grandi attori di Hollywood e devo dire che Guillermo del Toro ha messo insieme un cast eccezionale. Oltre a Cooper abbiamo Cate Blanchett, Toni Collette, Runei Mara, William Defoe e insomma già dal cast si capiva che il film avrebbe ambito a raccontare una storia particolare in una forma che forse non avevamo ancora visto da parte di Del Toro. Prima di tutto è tratto da un romanzo del 1946, pensate, e venne fatto un primo film nel 1947, quindi l'anno dopo, e la storia è ambientata alla fine degli anni 30. Spesso nel corso del film sullo sfondo si sente per radio, sui giornali, che Hitler sta per invadere la Polonia e che quindi sta per scoppiare la Seconda Guerra Mondiale. Il film inizia con quest'uomo interpretato da Bradley Cooper che si ritrova dentro questa casa in legno e le prime scene, noi non sappiamo che cosa è successo nel passato di quest'uomo, lui tira un cadavere e lo mette dentro una specie di fossa dentro questa casa in legno e poi dà fuoco a tutto e immaginiamo che questo personaggio abbia un passato travagliato. Si ritrova, si imbatte in questo circo, in questo ambiente circense, comincia a lavorare all'inizio come facchino per quest'uomo, questo William De Fo, che interpreta il capo di tutta questa struttura circense, e l'attrazione principale di questo circo, che viene anche pagata lautamente dalle persone che lo guardano, è l'uomo bestia. Anziché un animale in gabbia c'è un uomo, un uomo che poi lo stesso De Fo racconterà, viene preso dalla strada, un ubriacone, e viene rinchiuso dentro una gabbia e lasciato lì, sudicio, in catene, privo di qualsiasi cosa, e drugato, drugato attraverso l'alcol mescolato appunto con una droga, e l'attrazione principale consiste nel lasciare quest'uomo in una fossa e dar da mangiare lui dei polli. E le persone assistono a questa scena anche abbastanza cruenta, quindi il film, oltre ad essere un noir, è anche un mezzo thriller, horror, perché ci sono delle scene abbastanza cruente in cui si vede quest'uomo, questo poveraccio, tutti lo guardano dall'alto, insomma che divora questo pollo con il sangue che schizza. E il circo è un mondo, è un mondo in cui ci sono l'uomo più forte del mondo, c'è il nano, ci sono salti in banchi, c'è colei che legge le carte, interpretata da un'ottima Toni Collette, un'attrice che veramente, devo dire, che fa una parte marginale, ma che è molto brava anche in questa veste, e che conosce il protagonista, e lì c'è questa famosa prima scena di nudo di Bradley Cooper a casa di questa donna, ma mi aspettavo chissà che, ne parlavo anche con mia moglie che è pazza di Bradley Cooper, e devo dire, sì, è una scena di nudo in cui lui sta nella vasca e si alza, e però, niente di che, insomma, però ha raccontato comunque Bradley Cooper che è stata emozionante girare la sua prima scena di nudo della sua carriera. Insomma, conosce questa donna e conosce soprattutto il compagno, il marito di questa donna, che era, anche lui lavorava nel mondo circense come mentalista, diciamo che lei faceva usufruire di chi lavorava lì nel circo, o comunque dei passanti della sua vasca da bagno a pagamento a quei tempi, insomma, la povertà era dilagante e si pagava per farsi un bagno, quindi immaginate le tantissime persone che lavoravano poi nel mondo del circo sporche sudice e usufruivano di questa casa, di questa donna che dava loro un bagno caldo in cambio di soldi. Conosce il marito, un ex mentalista che porta sempre con sé questo libretto, i suoi segreti, i trucchi del mestiere, e lui, Cooper, insomma, Stan, il personaggio interpretato da Cooper, si incuriosisce. Che cosa faceva quest'uomo, Peter, il marito di Toni Collette nel film? Praticamente faceva credere alle persone di essere in contatto con l'aldilà e quindi di sapere tutto di loro così a prima vista, a prima occhiata. Ovviamente ci sono dei segreti che rivelerà al protagonista per capire subito se una persona magari aveva perso qualcuno, una persona cara, o se era più avanti con l'età e quindi doveva fargli credere in un certo modo di conoscere tutto di lei ad una prima occhiata. Questa cosa lo prende a tal punto che lui, a parte che inizia a imporsi mano a mano nel mondo del circo e avere anche idee interessanti anche per gli altri protagonisti dell'ambiente circense, e a incuriosirsi di questa specie di mentalismo per guadagnare soldi facendo credere alle persone di metterli in contatto con l'aldilà, con quel defunto e di conoscere cose senza vederle, per esempio di sapere tutto sul passato di una persona solamente guardandola entrare dalla porta. All'interno del circo si innamora di Runei Mara, l'attrice anche lei bravissima che interpreta anche un'altra protagonista del mondo circense e alla quale dà numerose idee per il suo trucco di magia con la corrente elettrica che le attraversa il corpo, molto divertente anche perché si vede che il personaggio interpretato da Bradley Cooper all'inizio molto introverso, molto misterioso, mano a mano prende piede in questo ambiente anche facendosi vedere con buon occhio dal capo di tutta la baracca e a un certo punto i due si innamorano e decidono di mettersi in proprio tra virgolette quindi di andare via dal circo per fare questi trucchi di mentalismo e quindi queste illusioni a gente facoltosa anche nelle serate di gala. Durante una di queste serate quindi loro vanno via e si trasferiscono in altre città, vanno via e durante una di queste serate di gala incontrano Kate Blanchett che interpreta una psicologa, una psicoterapeuta e che è la prima a metterlo in difficoltà nel senso, dice proprio, secondo me voi avete, attraverso il linguaggio verbale, il vostro trucco sta in quello che vi dite perché non è possibile che tu sappia cosa c'è dentro questa borsa, ad esempio. E lui invece all'inizio un po' titubante si vede spiazzato perché dice cavolo mi sta mettendo in imbarazzo davanti al pubblico al quale sto facendo i miei trucchi di illusione, ecco perché poi la fiera delle illusioni è tutto un... è tutto... il film si basa proprio sul... sulla avidità del guadagnare fregando le persone, facendo credere alle persone cose che non esistono, cose impossibili e lui si fa prendere a tal punto da questa cosa da mettersi anche a un certo punto d'accordo con questa psicologa con il quale avrà poi una storia al punto di farsi dire dalla psicologa i segreti più reconditi delle persone facoltose dell'epoca. In un viaggio che comincia ad andare verso un destino pericoloso perché poi mettere in mezzo l'aldilà le persone morte con gente che farebbe di tutto pur di ritrovare un contatto con una persona morta, una persona amata, metterà in serio pericolo il protagonista. Il finale... il film è totalmente diverso dalla prima parte anche l'ambientazione mi è piaciuta molto, la scenografia, i costumi, la fotografia, Ghiermo del Toro è riuscito a mettere insieme elementi pazzeschi in un film che sicuramente farà molto discutere. Leggevo del finale che ad alcuni non è piaciuto e che può risultare scontato. Sì, è vero, capirete forse prima degli ultimi 5-10 minuti dove vuole andare a parare il film, ma forse è anche quello che ci fa capire che chi vuole troppo poi nulla stringe. Insomma, non starò qui a dirvi come finisce il film, ma vi consiglio di andarvelo a vedere al cinema perché è un piacere per gli occhi. Se lo avete visto ditemi ovviamente cosa ne pensate nei commenti e io vi do appuntamento alla prossima recensione.